buonasera benvenuti all'appuntamento del meditazione e col centro buddista di belvedere lache io sono maria rosa bersanetti per chi mi conosce ancora e abbiamo tutti i giovedì abbiamo degli incontri sia con le persone che vengono qui al centro sia per le persone che ci seguono ora nel web e quindi benvenuti a chi non è ancora non c'è ancora conosciuti non è ancora nostro affezionato e quindi bene oggi avremo un incontro che riguarda l'argomento di oggi che la coltivazione della pace e della calma mentale prendiamo rifugio tra i gioielli nel buddha nel dharma nel sangha affinché il nostro maestro guru buddha possa illuminarci e darci delle ispirazioni positive e l'energia ispiratrice affinché noi possiamo comprendere a fondo gli argomenti del dharma e poterli integrare nella nostra vita quotidiana Namo buddhaya, Namo dharmaya, Namo sanghaya, Namo triratnaya. Sanghe chedan sonkhi chonam la, chanchum bardu danni kia zuchi, Danghi chizunghi pezo nanki, dron la perci sanghye drupasho. Affinché io possa essere di beneficio tutti gli esseri senzienti, pratico il sentiero del Dharma, in modo che il mio cuore possa aprirsi e accogliere tutti gli esseri senzienti. Bene, come abbiamo già annunciato, l'argomento di oggi è coltivare la pace della mente. La mente può essere una nostra grande amica, come anche un grande problema. Se la si lascia in modo incontrollato, in modo che lei faccia i suoi movimenti legati a quelle che sono le nostre credenze e le nostre abitudini, alcune magari abitudini possono essere positive e possiamo anche tenerle, altre invece magari vanno corrette e migliorate in modo che possa essere di beneficio a noi la nostra vita e creare le condizioni positive anche per vivere bene con tutti gli altri. Come possiamo fare per coltivare la tranquillità mentale? È un argomento molto complicato in questi giorni, in questi giorni in cui noi viviamo, dopo il coronavirus e anche troppo con tutte le notizie che noi sentiamo spesso con la televisione, con i trottocalchi molto nefasti nei confronti di gente che soffre molto in questo mondo. Se si ha un cuore sensibile sicuramente tutto questo ci viene un po' a pesare durante la nostra vita perché pensiamo che vorremmo che tutti quante le persone fossero con quello che hanno bisogno per vivere e purtroppo ci sono molte divergenze, diversificazioni di situazioni sociali in cui noi occidentali e dall'altra parte del mondo siamo privilegiati, abbiamo di tutto e diciamo più del tre quarti della popolazione mondiale è messa molto male e sofferente. Contando che questo nostro privilegio, questa nostra fortuna va comunque indirizzata in modo positivo e pensando che effettivamente potremmo fare qualcosa di positivo anche per gli altri volendolo fare profondamente, già questo crea una situazione di tranquillità mentale nel senso che noi pensiamo che esistono anche gli esseri che soffrono e che il nostro impegno con quello che è il nostro possibile man mano che ci evolviamo facciamo il nostro meglio per poter essere di beneficio e di aiuto a tutti gli altri. Quindi chi coltiva una mentalità di apertura verso gli altri di disponibilità nel voler fare del proprio meglio o dedicare anche il proprio tempo aiutando le persone che hanno delle difficoltà fare del volontariato insomma verso qualcuno o qualche ora della giornata o della settimana sicuramente è una buona medicina per creare una situazione di pace e anche la nostra vita spesso ha molte situazioni anche di conflitto risolvere queste situazioni di conflitto, di divergenza o di litigi che possono accadere e si augura che non succedano mai però effettivamente possono succedere delle situazioni di difficoltà di comunicazione o comunque di divergenza risolvere nel modo più positivo nel senso di delle volte anche lasciare la vittoria al nemico, tra virgolette, a persone che in pratica abbiamo delle divergenze può essere un grande vantaggio nei nostri confronti nel senso che comunque noi abbiamo una stabilità armonica dentro di noi questa stabilità proprio nei rapporti con gli altri di fare in modo che anche gli altri siano felici delle volte hanno torto, le persone dicono si hai ragione e questo può essere una cosa che comunque la ragione non paga nessuno il fatto di dare la vittoria alla persona che con noi discute è un po' come dare la vittoria all'ego che rimane in panchina dobbiamo sempre un po' capire spesso cosa succede quando dialoghiamo con le persone che tipo di contrasto c'è dentro la nostra mente spesso i dialoghi sono basati sull'imporre la propria personalità, le proprie idee e non sono tanto costruttivi quando è così quando invece c'è una comunione di intenti per realizzare dei progetti positivi o comunque fare delle cose insieme c'è la collaborazione e non è un prevaricare uno sull'altro le vittorie, io sono il più bravo, tu sei così c'è un modo di mettersi al servizio degli altri con le proprie capacità in modo di fare delle cose costruttive per tutti quanti quindi proprio spesso anche la nostra organizzazione mentale può essere creata in modo tale che ci crea dell'agitazione quindi il primo passo ancora prima di incominciare a fare meditazione è quello di dipanare proprio tutto quello che può essere i nostri conflitti capire cosa è l'ostacolo del dialogo che cosa noi rimuginiamo quando abbiamo dei contatti con delle persone che tipo di atteggiamento ha la nostra mente che gioco fa il nostro ego quando facciamo delle cose con gli altri quindi creare diciamo armonia nel rapporto e in modo obiettivo chiaramente con noi stessi e gli altri questo è il primo passo per avere una situazione di pace mentale e di perfetto rilassamento dal punto di vista del nostro stato interiore e oltre a questo chiaramente bisogna anche incominciare a lasciare spazio se la nostra mente è sempre impegnata a chiacchierare a pensare a progettare non c'è un momento di break lei continua a essere agitata, stressata, nervosa e non avremo mai un momento di calma quindi questa calma va un po' rivista dal punto di vista di quello che fa la mente controllare i pensieri della mente non è semplice perché comunque passano a secondo milioni di pensieri non possiamo di certo controllare che cosa fa la mente però possiamo sentire il nostro stato d'animo secondo il nostro stato d'animo possiamo capire che tipologie di pensieri stanno passando per la nostra mente quindi lavorare su questi in base al sentimento capire che tipo di pensieri e fare in modo che questo campanello d'allarme ci indichi che tipo di direzione vogliamo prendere per creare una situazione di stabilità dal punto di vista emotivo in cui non c'è né agitazione né preoccupazione né troppa gioia perché anche l'euforia crea comunque dei disagi o la depressione quando ci sentiamo delusi, depressi perché le cose non vanno come ci piacciono e quindi questo altalena di buono, bello, sentirsi bene, sentirsi male va un po' equilibrato ecco, sentendo un po' che cosa succede dentro di noi questo è importante proprio perché su questa base noi riusciamo a creare una stabilità una mente che rimanga calma e nello stesso tempo attenta quindi oltre diciamo l'esercizio che noi possiamo attuare quando iniziamo a fare meditazione durante la vita, durante la giornata si fa un'osservazione su quello che succede nella mente è proprio guardare e rendersene conto è il primo stadio per diventare consapevoli se noi non capiamo cosa fa la mente e andiamo in automatico la nostra mente continuerà ad andare per fatti suoi noi saremo le vittime di noi stessi continuamente in base a quello che bello brutto lei ci farà fare ecco, perché comunque dopo aver pensato di reazione il nostro pilota automatico delle azioni delle attività che svolgiamo durante la giornata quindi per migliorare e rendere la nostra vita consapevole si inizia proprio riassumendo un po' si inizia col osservare cosa fa la mente e sentire i propri sentimenti nell'osservazione osservare, sentire e poi rendersene conto senza dover intervenire con dei giudizi o delle altre non è una cosa facile perché osservare senza giudicare anche lì ci vuole ci vuole già allenamento e non viene in modo spontaneo se siamo abituati sempre a essere ipercritici o comunque dare giudizi continuamente quindi l'osservazione guardare vedere e rendersene conto e possiamo anche applicare delle tecniche di meditazione legate alle situazioni in cui noi siamo magari agitati oppure un po' un po' depressi da tante cose ecco quindi fare in modo di riprendere un'auto medicina che è quella della consapevolezza e della meditazione una medicina che possiamo utilizzare per riequilibrare uno stato di dire all'inizio serenità neanche pace perché poi lo stato di pace mentale lo si ottiene quando si riesce a essere abbastanza stabili in questo stato interno e quindi all'inizio si osserva si guardano i nostri pensieri se vediamo dei pensieri che ci creano un disturbo iniziamo a ispirare profondamente lasciandoli cadere ispiriamo ispirando lasciamo cadere questi pensieri con l'espirazione ispiriamo 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 ispirando lasciamo cadere i pensieri che ci danno fastidio anche l'ossigenazione il pensare di lasciare andare questo è proprio una cosa molto comune a medicina pensare di ispirare si può anche pensare in modo ricco questo ispirare ispirare energia positiva immaginiamo che il guru Buddha è sul nostro capo che ci concede un netto di purificazione di eliminazione dei nostri ostacoli interni quindi ispirando lasciamo andare tutte queste negatività le lasciamo proprio cadere immaginiamo che si allontanano dalla nostra mente dal nostro stato interiore così come un cerchio un riflusso ispiriamo ispiriamo quindi trasformiamo i nostri pensieri pensando a questo questa grande benedizione che il guru Buddha sul nostro capo ci emana questa grande energia e possiamo proprio fare una meditazione ogni volta che ne abbiamo bisogno chiaramente chiaramente più lo facciamo più possiamo avere dei risultati quindi ispiriamo profondamente possiamo fare anche delle profonde respirazioni in modo che ossigeniamo le nostre cellule questo lo possiamo fare più volte durante la giornata in particolar modo quando abbiamo uno spazio aperto dove c'è l'aria pulita quindi ispiriamo riossigeniamo ispiriamo energia positiva ispiriamo eliminiamo tutti i nostri blocchi interiori i nostri disagi lasciamo andare e lasciamo andare pensiamo allo spazio che creiamo dentro di noi dentro la nostra mente lasciando andare tutti i pensieri i 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